Dieci giornate e 2021 in archivio nei campionati nazionali di Futsal, CLN, Gusmolise e Shaminad osservano il periodo di riposo dopo la prima parte di stagione. In 2021 partirà con la penultima giornata del girone d'andata il 7 gennaio, mentre il 15 ci sarà il giro di Boa. Bilancio assolutamente positivo per il CLN Gusmolise nel torneo di A2. Le paure di inizio stagione nell'affrontare un girone completamente diverso rispetto al passato sono state superate con il sacrificio. La squadra si è calata nel migliore dei modi del nuovo campionato. Il quinto posto attuale con 20 punti in 10 giornate è la certificazione di quello che stiamo dicendo. Inoltre la società universitaria è in attesa di un ricorso presentato avverso la Roma Calcio A5. In caso di accoglimento dell'istanza Barichello e compagni salirebbero al secondo posto solitario a quota 22. Insomma di più non si poteva fare al cospetto di realtà forti, consolidate e che stanno spendendo un patrimonio per salire in A1. Parliamo della capolista Active Network di Viterbo, del Genzano, della Lazio Calcio A5 e del Pomezia senza dimenticare le campane Benevento e Sala Consilina. Due squadre da zona playoff. Alla ripresa delle ostilità il trittico terribile con Lazio, Active Network e Benevento. Un bel test per i ragazzi di San Gennario che hanno dalla loro la tranquillità di aver già giocato per l'obiettivo stagionale, la salvezza diretta. Periodo utile per ritemprare le forze e prepararsi al meglio ad un avvio di 2021 che si preannuncia davvero scoppiettante. Nel torneo di Serie B, bilancio amaro per la Chaminade. La squadra rosso-blu, partita per giocare un torneo tranquillo, si ritrova in pieda gata al massimo nei bassi fondi della graduatoria. Cinque punti in dieci gare, una sola vittoria e due pareggi, troppo poco per una squadra dai buoni valori tecnici. Qualcosa non ha funzionato al meglio, la crescita dei ragazzi sembra essersi interrotta dopo i buoni segnali di inizio stagione. La società valuta la possibilità di rinforzarsi nel mercato invernale, almeno con una pedina di esperienza. Di certo bisogna cambiare passo anche dal punto di vista della cattiveria sportiva. La Chaminade è mancata anche come carattere in questo avvio di stagione. Il gruppo non è sembrato così forte come lo è stato in passato. La società del padrono scarnata storicamente ha reso la vita difficile a tutte le avversarie durante i vari anni di militanza in Serie B. Anche nelle giornate no, non è mai mancata la cosiddetta garra agonistica. In questo campionato non si può dire la stessa cosa, per questo ci aspettiamo una Chaminade diversa alla ripresa delle ostilità, quando l'8 gennaio alla palestra Sturzo arriverà il Bitonto, diretta concorrente per la salvezza.